Ben ritrovati a tutti con questo nuovo appuntamento con le interviste di BioBlu24. Allora, sono passati 44 anni da quel 16 marzo del 1978, il giorno in cui dopo un agguato in via Mario Fani a Roma, appunto un gruppo di persone ha ucciso i componenti della scorta dell'allora presidente della democrazia cristiana Aldo Moro e noi vogliamo tornare su quella vicenda, cercare di capire in retroscena tutte le cose che non tornano, lo facciamo con un ospite in collegamento, saluto Pietro Ratto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, salve. Allora, Pietro Ratto ha scritto un libro sulla vicenda che adesso è riuscito in una versione aggiornata, vediamola assieme, l'onda anomala, poi ci spiegherà questo gioco di parole, il rapimento Moro, una lettera anonima e un ispettore con le mani legate. Allora, Pietro Ratto, sul rapimento Moro, su quello che successe quel giorno si sono scritti fiumi di parole, fiumi di pagine, che cosa ci dice questo libro in più rispetto a quello che non si è detto fino adesso? Dunque, intanto è un libro che è uscito il 16 marzo del 2017 e di cui abbiamo parlato su BioBlu insieme a Claudio Messora, mi sembra proprio il 21 luglio di quell'anno, un video che ha così ottenuto moltissime visualizzazioni. E questo è un libro un po' diverso dal solito, perché è un libro che si concentra su una pista che è stata su un'indagine, che è stata assolutamente tenuta in disparte, tenuta in qualche maniera in ombra e che ancora oggi risulta essere sulle scrivanie della procura di Roma, nonostante si tratti di un'indagine sviluppatasi ormai più di dieci anni fa, ma che risulta talmente imbarazzante probabilmente da non essere presa in considerazione in maniera adeguata. Quindi si tratta appunto di percorrere un'altra strada alternativa rispetto a quella che è la versione ufficiale. Le chiedo adesso, anche per far capire un po' a chi ci ascolta da casa, proviamo a fare un esercizio per tornare indietro a quella data? Cioè proviamo a immaginare, a metterci nei miei panni magari di un passante che attraversava magari quella via proprio quel giorno, quindi parliamo del 16 marzo 1978, quando è successo il tutto? Quindi se può farci un riassunto di che cosa ha visto questo ipotetico passante che è passato lì in quel momento secondo questa nuova versione? La versione ufficiale è quella della macchina presidenziale di Aldo Moro, una Fiat 130, che percorre questa strada in salita seguita da un'altra macchina, un'altra automobile che è occupata dagli uomini della scorta di Moro, uomini che sono anche dentro la stessa 130 in cui Moro è seduto tranquillamente. Moro sta leggendo probabilmente i giornali del giorno come fa ogni mattina e una macchina si posiziona improvvisamente davanti alla 130 e in prossimità dell'incrocio frena e secondo le prime versioni poi considerate ritenute ufficiali per molti anni, questo provoca un tamponamento da parte di chi guidava la 130 in cui si trovava Moro e questo tamponamento è all'origine di un disorientamento delle persone all'interno della macchina stessa che in qualche maniera dovrebbe essere servito agli occupanti della macchina che si trovava davanti e che aveva frenato a secco per uscire di colpo e sparare su tutti gli uomini della scorta presenti sia nell'automobile di Moro, sia in quella che la seguiva, uccidendoli tutti. Un'operazione tra l'altro di grandissima rilevanza militare, un fuoco ormai sappiamo incrociato anche se lì per lì si è parlato soltanto del fuoco avvenuto da sinistra da parte di brigatisti nascosti dietro i vasi del De Ordi, un noto bar diventato noto a quel punto il bar Olivetti e che è un fuoco che in realtà adesso sappiamo essersi prodotto anche da destra ma che nella sua complessità di fuoco incrociato guarda caso è riuscito a uccidere tutti gli occupanti delle due macchine tranne Aldo Moro. Ora questo genere di impresa oltre a essere particolarmente fuori dalla portata dei brigatisti che hanno più volte sostenuto di aver riscontrato che gli si inceppavano i mitra e che non riuscivano neanche a sparare, insomma non erano certo così sia ben addestrati a operazioni come queste, ecco oltre a questo problema comporta tutta una serie di altre perplessità per esempio perché mai la macchina a bordo della quale si trovava Moro avrebbe dovuto essere sorpresa dal fatto che quella davanti arrivata all'incrocio frenasse visto che appunto c'era un incrocio e quindi evidentemente quel tamponamento non si giustifica particolarmente. Se vuole torneremo poi sulla questione del tamponamento perché è piuttosto interessante. Fatto sta che chi ha visto quella scena è per esempio un uomo a bordo di una Vespa che si è beccato anche qualche sparo sul parabrezza della Vespa ha notato anche qualcos'altro e questa testimonianza è stata resa da più persone nelle immediatezza della situazione. Già dalle dieci di mattina venivano rese queste testimonianze alla polizia nonostante, cioè ricordo che l'attentato si è verificato intorno alle nove e durato in tutto qualche minuto dall'apertura del fuoco fino alla cattura di Moro e alla scomparsa di tutti i brigatisti impegnati sulla scena. Chi appunto ha visto ha visto anche una moto Honda blu occupata da due uomini con il volto travisato, uno col volto travisato da una maschera da una passamontagna e l'altro invece a volto scoperto che sembravano in qualche maniera esercitare un ruolo di controllo all'interno della situazione. Scusi, questo è un elemento importante perché se non sbaglio i brigatisti hanno sempre poi negato nelle loro versioni della presenza di questa motocicletta, giusto? Esattamente perché questa presenza è assolutamente ingombrante quanto scomoda visto che, e arriviamo alla pista che finisce nelle mani di questo ispettore Rossi della questura di Torino nel 2010, se non erro, a fine 2010, visto che una lettera anonima che viene recapitata alla stampa di Torino e che era stata scritta forse nel 2009, recapitata alla fine del 2010, se non ricordo male, questa lettera anonima era la lettera di un appunto anonimo estensore che sosteneva che sulla scena dell'attentato ci fosse questa moto Honda di cui lui fosse uno dei due occupanti. Lui dice io sto per morire di tumore, quindi ho già dato in carico a chi di dovere al momento della mia morte di lasciar passare un tot di tempo e poi consegnare questa lettera alla stampa, al quotidiano la stampa di Torino e in questa lettera che cosa dice questo estensore malato? Dice io sto, cioè io vi confesso, vi informo circa il fatto che eravamo in due su questa moto Honda, due gladiatori, due uomini di Gladio, quindi due uomini dei servizi segreti, perché insomma Gladio era le dipendenze dei servizi segreti, ricordiamo la nota organizzazione che finanziata dagli Stati Uniti d'America aveva il compito di scoraggiare qualsiasi forma di tentazione e di spostamento a sinistra con tutta una serie di operazioni militari dell'Italia, in una fase, lo ricordo, quella che dal 1973-75 conobbe il massimo successo elettorale politico del Partito Comunista, ricordiamo ancora che lo stesso Moro quella mattina stava per assistere al varo del suo governo, di un governo che avrebbe per la prima volta compreso al suo interno il Partito Comunista e quindi dice noi eravamo lì come due uomini di Gladio, attenzione alle dipendenze, agli ordini del colonnello Guglielmi, che era un colonnello del Sismi particolarmente impegnato nell'addestramento dei uomini di Gladio in Sardegna e non solo, e che addirittura, e questo emerge dallo scritto, attraverso noi esercitava un ruolo di copertura nei confronti dell'azione delle Brigate Rosse, una cosa sconvolgente che evidentemente ancora oggi facciamo fatica ad accettare. Ecco, sicuramente il ruolo dei servizi segreti va certamente approfondito, ma secondo lei perché si sarebbero scomodati i servizi segreti? Nel senso si è parlato appunto di questa volontà di controllo anche da parte americana sull'Italia in quel momento, in un momento in cui il Partito Comunista rischiava appunto di entrare in un governo, ma è solo quello il motivo? Ci sono anche altre cose della vita di Moore e della sua carriera politica che preoccupavano anche all'interno dei servizi segreti? Ciò che rende particolarmente scabroso questo libro e che ne ha comportato un certo boicottaggio appena uscito per mesi, introvabile, è il fatto che questa narrazione delle Brigate rosse che non vogliono il governo di sinistra perché sono rivoluzionari e non riformiste. E anche la narrazione è sicuramente più scomoda in virtù della quale gli Stati Uniti vedessero di, insomma, non certo di buon grado questa evenienza perché c'era il rischio che l'Italia si spostasse pericolosamente a sinistra e diventasse preda facile di un eventuale avance da parte delle nazioni legate al patto di Varsavia e quindi legate all'Unione Sovietica. Siamo in piena guerra fredda, lo ricordiamo, anche se in una fase che gli storici chiamano di distensione, ma comunque siamo in guerra fredda. Non è certo però l'unico aspetto che poteva dar fastidio alla CIA e agli americani. Stiamo parlando soprattutto di un Aldo Moro che dava fastidio nella sua insofferenza nei confronti di una eccessiva ingerenza della politica statunitense nell'economia e nella politica nazionale italiana. Lo si evince da quel poco che è arrivato a noi dei memoriali. Moro parla addirittura della Trilateral, considerandola un club di privati particolarmente insidioso che non permette all'Italia di essere autonoma e in realtà questo fa di Moro addirittura, se vogliamo, un complottista, visto che chi parla di Trilateral è assolutamente considerato tale. Ma parliamo di un Moro che... quella fondata da David Rockefeller, giusto? Assolutamente. Quella che si chiamava così perché contemplava la presenza del Trilateral, cioè delle tre principali potenze, diciamo, organizzazioni di potenze occidentali, cioè gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, era un'associazione, è un'associazione che comprende al suo interno politologi, economisti, banchieri, studiosi vari che hanno tutti come obiettivo quello del facilitare, dell'implementare in tutti i modi il controllo statunitense nei confronti del resto del Trilateral, è quell'associazione fondata, come diceva lei giustamente, da David Rockefeller che ha, per esempio, prodotto quella crisi della democrazia, così si chiama quel libro molto importante, il cui contenuti affronto all'interno di questo libro, questa crisi della democrazia che nella versione italiana, in lingua italiana, viene pubblicata con l'introduzione di Gianni Agnelli e che di fatto sancisce l'idea, cioè avanza, propone l'idea, ma in modo abbastanza autorevole e autoritario, di un sempre maggior controllo americano sull'Occidente e di forme di limitazione, quanto mai fondamentali secondo la Trilateral stessa, forme di limitazione della democrazia, parlando proprio di eccesso di democrazia come pericolo che si sta verificando in Occidente, chiaramente con allusione a quella che è stata la debacle delle forze di centrodestra nel momento in cui il Partito Comunista in Italia è avanzato, per esempio, in maniera così forte, ricordiamo che siamo a ridosso del 68 e quindi c'è una forte ventata di spirito di sinistra in giro per il mondo occidentale e questo agita particolarmente questi studiosi e quindi l'idea è quella di provare a diminuire le forme di democrazia, attenuarle, accentrando più potere nelle mani dei governanti e addirittura, udite udite, inserendo all'interno degli esecutivi banchieri e tecnici in modo da affievolire ancora di più la relazione tra quello che è la volontà popolare e l'espressione di questa volontà e dall'altra parte le azioni di governo. Quindi siamo di fronte a una situazione quanto mai attuale, se pensiamo anche oggi alla questione dell'Ucraina soggiogata dagli Stati Uniti e messa nelle condizioni di spinta ad aderire sempre più a una Nato che di fatto sta cerchiando la Russia. E così poi quando lei parla di banchieri e tecnici che vengono inseriti nel governo, ovviamente non si può che far riferimento anche all'epoca attuale dove da diverso tempo anche in Italia si vedono tecnici e banchieri, abbiamo adesso un esempio con la presidenza del Consiglio, un ex per rispondere ad interessi che vanno oltre quelli nazionali. Senta, però abbiamo questa nuova versione dei fatti, questa nuova pista da seguire che mi sembra sia supportata da elementi oggettivi che andrebbero comunque approfonditi. Nonostante questo però la vulgata tradizionale continua a seguire la stessa strada. Per esempio, le leggo una dichiarazione fatta dal magistrato Carlo Nordio che è stato anche uno dei candidati alla Presidenza della Repubblica recentemente che secondo lui non si presenterebbero aspetti poi così inspiegabili nel rapimento Moro perché l'azione derivò secondo lui sostanzialmente dalla sproporzione tra l'efficienza operativa del gruppo di fuoco brigatista e l'incauto dilettantismo della scorta e di chi l'aveva istruita. Come interpreta queste dichiarazioni e questa volontà da parte della corrente mainstream di comunque tenere fede alla versione ufficiale e di in qualche modo tenere da parte tutti gli aspetti che sembrano comunque parlare di altro rispetto alla vicenda del rapimento Moro? E' stato detto di tutto, compreso uno storico apprezzato come Barbero che è arrivato a dire che le Brigate Rosse erano arrivate fino a un citofono a cercare il nome di un politico che volevano far fuori, non l'hanno trovato e quindi hanno ripiegato su Moro. Si sono dette le sciocchezze più spaventose per cercare di da un lato considerare le Brigate Rosse come le uniche responsabili, dall'altro però farle alternativamente passare dai dilettanti ai professionisti e addirittura in questo caso e con questa versione che lei citava screditare invece la perizia e le capacità notevolissime della scorta che Moro in quel momento godeva, scorta che tra l'altro era anche insomma composta da uomini che erano amici di Moro. Da qui poi il discorso per cui c'è chi addirittura ha sospettato che Moro non sia mai stato effettivamente presente in quell'auto perché altrimenti non si capirebbe come mai non abbia mai ricordato nelle sue lettere e la sua scorta, cosa che invece andrebbe contrastata ricordando che la gran parte di lettere memoriali è stata manipolata e che lo stesso dalla Chiesa quando se l'è trovata di fronte dopo averla lui direttamente attraverso i suoi uomini poi averla tenuta lui direttamente nelle mani al momento in cui uno dei covi delle Brigate Rosse è poi stato scoperto nell'autunno di quell'anno ecco lo stesso dalla Chiesa aveva riconosciuto che quelli che erano ufficialmente ormai i memoriali di Moro erano una minima parte rispetto a quelli che lui aveva visto. Quindi è stato detto di tutto, è chiaro che la versione ufficiale è sempre quella che, e questo vale per tutto ciò che riguarda la storia italiana e anche l'attualità, deve il più possibile tenere fuori gli Stati Uniti dalle responsabilità di quello che accade dalle nostre parti. Resta assolutamente chiara quella testimonianza che nel 1982 la moglie di Moro dà davanti alla Corte d'Assise raccontando di come Enric Kissinger in un incontro che c'era stato nel 1976, se non erro, tra il Presidente Giovanni Leone e l'allora Ministro degli Esteri Aldumore, dall'altra parte Kissinger con una delegazione che proveniva dal Presidente americano Ford Kissinger aveva detto che non era per niente contento del fatto che in Italia ci si stesse avvicinando a una collaborazione di tutte le forze politiche in gioco, incluse quelle comuniste e che lui disse voi ci rimproverate di aver rovesciato all'Ende in Cile cosa che quindi Kissinger, così come aveva fatto una settimana prima lo stesso Ford, ammette ma ci rimproverereste molto di più, disse Amoro se non ci occupassimo anche di questa eccessiva avanzata delle forze di sinistra negli stati dell'Europa occidentale e poi rivolgendosi direttamente a lui come disse poi la moglie Kissinger disse guardi che la pagherà cara questa sua idea di far collaborare tutte le forze politiche se non cambia direzione quindi che gli Stati Uniti siano stati assolutamente e particolarmente aggressivi rispetto a questo e ad altri aspetti io non ho dubbio che sia ma è una cosa che deve rimanere nell'ombra ricordiamo che in quegli anni avvengono altri sovvertimenti di cui si parla molto poco e di cui mi sto occupando in questo periodo come quelli relativi alla massoneria italiana perché all'interno della massoneria diciamo più importante del Grande Oriente si crea una spaccatura molto forte proprio dal 1976 proprio perché una parte della massoneria quella più potente quella più appoggiata dagli Stati Uniti non tollera un'altra parte che invece sta come si può dire mettendosi di traverso nei confronti di una pericolosa forma di sottomissione della massoneria italiana quella statunitense al di là del fatto che stiamo parlando comunque di massonerie pericolose in ogni modo ma proprio dopo il terremoto politico del 1975 gli Stati Uniti adottano e percorrono tutte le strade possibili per poter ripristinare il controllo di un'Italia eccessivamente a sinistra e guarda caso la strategia del terrore che viene messa in atto dal 69 in poi è assolutamente da comprendere in questa direzione è così interessante anche questo legato alla massoneria i giochi di potere anche che ci sono dietro le quinte che magari noi non vediamo direttamente volevo fare un'ultima riflessione con lei perché la vicenda di Aldo Moro ovviamente a me ricorda direttamente una vicenda simile che ha coinvolto un altro italiano che in qualche modo si è messo di traverso rispetto agli interessi statunitensi e non ha fatto una bella fine cioè Enrico Mattei questo cosa significa? sono dei messaggi di avvertimento per cui in Italia chi prova a mettere la testa un po' fuori dall'ordinario viene subito messo a tacere viene messo in silenzio ed è per questo che poi dal seguito dell'uccisione di Aldo Moro non c'è più stata poi una figura politica che possa essere in qualche modo equiparata a questa volontà appunto di emancipazione rispetto al predominio del americano e alla volontà di influenza americana in Italia? beh è chiaro che gli Stati Uniti hanno un potere enorme su di noi e sulle potenze e nazioni della Nato anche solo per le questioni finanziarie perché per aderire cioè in cambio dell'adesione alla Nato qual è la tentazione che prova uno Stato? quella delle facilitazioni dei finanziamenti americani e quindi nessuno ha intenzione di come si può dire rinunciare a questo genere di leve e quindi tutti si mettono a cantare la canzone ufficiale d'altra parte Mattei ma insomma ricordiamo che Falcone fa un lungo viaggio in America poco prima di morire e ricordiamo che muore in quella fase in quell'anno in quel 92 che è quello della privatizzazione in Italia che vede una fortissima come si può dire influenza diciamo del mondo anglosassone quindi americano e inglese con tutti i vantaggi che poi questo comporta a livello internazionale per le grandi multinazionali appunto inglesi, americane eccetera che vengono a prendersi le nostre proprietà i nostri gioielli di famiglia come è stato detto guarda caso Falcone muore durante i giorni di riunione del Bilderberg e ancora oggi noi abbiamo al potere in questo momento colui che è stato l'artefice delle privatizzazioni che hanno portato a una perdita enorme per l'Italia da un punto di vista delle proprietà pubbliche e ad un vantaggio enorme di quelle invece rispetto ai privati che ne hanno beneficiato e che appunto in questo momento ci governa è colui a cui ho dedicato uno degli ultimi libri Lobbing e vorrei fare un accenno anche a quello che è stato la questione poi della gestione da parte di Draghi appena salito al potere di quello che era il come si può dire il sistema con cui doveva dimostrare e spiegare all'Unione Europea cosa avrebbe fatto dei fondi che da lì a poco sarebbero arrivati in Italia sto parlando della metà del febbraio del 2021 e c'è questo discorso del recovery fund che viene come si può dire gestito non dal governo non dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma il recovery fund viene consegnato come documento da approntare a McKinsey una delle più grandi multinazionali del lobbying una multinazionale privata che Draghi ingaggia per questo documento che invece avrebbe dovuto essere un documento assolutamente pubblico nel senso degli interessi dello Stato per poter far sì che McKinsey venga incaricata di questo viene fatto figurare che sia stata pagata soltanto 25 mila euro per produrre un documento come quello che di fatto poi McKinsey sapeva confezionare esattamente secondo le modalità che la stessa Europa si attendeva perché McKinsey avendolo fatto anche per le altre nazioni aveva chiaro quali fossero i parametri che l'Unione Europea si aspettasse quindi in realtà noi abbiamo fatto un documento facendo una richiesta che era però esattamente la richiesta che l'Unione Europea si aspettava da noi e in questo modo come dice l'amico estimatissimo giudice ex giudice Carlo Palermo ci siamo sentiti al telefono proprio qualche giorno fa a proposito di questo punto siamo passati dalla come dice lui dalla privatizzazione dell'oggetto alla privatizzazione del soggetto ossia nel 92 dal Britannia in poi sono stati privatizzati gli oggetti e cioè le proprietà dello Stato finite nelle mani delle grandi banche grandi multinazionali eccetera Rothschild inclusi invece da adesso in Italia per quanto riguarda appunto il 2021 febbraio 2021 è stato privatizzato addirittura il soggetto cioè il soggetto che avrebbe dovuto occuparsi di questo documento economico così importante è stato individuato in un ente privato invece che in uno pubblico vorrei solo specificare che quei 25 mila euro ufficialmente spesi affinché McKinsey facesse questo producesse questo così importante documento nazionale ed economico sono stati individuati sono stati quantificati con questa cifra proprio per rimanere al di sotto della soglia che avrebbe costretto il governo Draghi a indire una gara d'appalto e quindi a permettere a più società di partecipare alla gara rispetto a questo documento invece è stata ufficialmente pagata una somma ridicola che non ci si può che aspettare che sia falsa proprio perché in questa maniera il governo Draghi non ha dovuto indire una gara d'appalto ecco sì è importante sottolineare anche quello che sta succedendo adesso e come potrebbe effettivamente esserci una linea di continuità in tutta questa storia italiana fatta di persone che tentano di emanciparsi da una certa influenza vengono messe da parte con le buone e con le cattive e poi nell'ultimo periodo abbiamo avuto appunto l'insediamento di ex banchieri e tecnici che in qualche modo hanno seguito un'agenda che ricordiamo sembra appunto non essere conforme con gli interessi nazionali spesso io ringrazio Pietro Ratto per essere stato con noi ricordo ancora appunto il suo libro sulla vicenda Moro l'onda anomala il rapimento Moro una lettera anonima e un ispettore con le mani legate che ricordiamo appunto esce in una versione aggiornata e che appunto cerca di mettere luce su tutti gli aspetti che non tornano ancora oggi sul rapimento dell'allora presidente della democrazia cristiana io ringrazio Pietro Ratto per essere stato con noi alla prossima grazie a tutti grazie a voi arrivederci bene siamo giunti al termine di questa puntata mi raccomando restate sintonizzati sul canale 262 del digitale terrestre e io vi do appuntamento alla prossima intervista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti